Sì, grazie Presidente. Allora, guardi, questa mozione, praticamente andiamo a parlare della necessità di Roma Capitale di avere dei giardinieri. Roma Capitale ha previsto un bando per l'assunzione di persone che svolgono questo compito. L'aspetto che noi andiamo a evidenziare con questa mozione è che attualmente c'è questo bando in corso per operatori di servizi ambientali dove ci sono circa 400 persone che hanno risposto a questo bando. Noi chiediamo che attualmente la necessità del bando sono 70 persone, però non è escluso, anzi è auspicabile e questa amministrazione ha intenzione di porre in atto, di effettuare degli atti per assumere altri operatori dei servizi ambientali. Per cui, qualora la Commissione dovesse ritenere idonei le persone a svolgere questo compito, noi chiediamo che venga effettuata una lista di idonei in modo tale che poi si possa attingere a questa lista qualora l'amministrazione debba andare ad assumere altri operatori dei servizi ambientali. Quest'atto è stato firmato anche dalle opposizioni, per cui mi auguro che ci sia un'espressione favorevole da parte di tutta l'Assemblea. Grazie.